A Milano oggi cala il sipario sulla prima Fashion Week post-Covid, un'edizione indubbiamente diversa che ha portato con sé anche novità destinate a rimanere. La moda è diventata sempre più digitale, ma come possiamo migliorare la visione delle sfilate? Possiamo condividere tutti i contenuti che sono stati prodotti durante le sfilate della moda, possiamo condividere con altri device tutti i contenuti che abbiamo ed è un momento importante proprio per dare un segnale di digitalizzazione al sistema moda. Situato nel cuore di Milano in Corso Venezia 7, al terzo piano di Casa Barelli, celebre Palazzo Liberty dei primi del Novecento, il Salotto di Milano rappresenta un concept unico nel suo genere, insieme galleria d'arte, showroom, boutique e spazio per eventi. Situato nel cuore di Milano in Corso Venezia 7, al terzo piano di Milano,